61 anni, originario di Napoli, Francesco De Cicco è il nuovo questore di Chieti. È stato presentato questa mattina, è sposato con Elisabetta Narciso, dirigente della Polizia Postale Abruzzese. Negli ultimi tre anni è stato questore di Rimini. Ha già lavorato a Pescara, prima come capo di gabinetto e poi come vicario del questore. Stesso ruolo, quest'ultimo, che ha ricoperto a Teramo. È entrato in polizia nel 1988, dopo aver frequentato il corso di formazione per vicecommissario, De Cicco è stato assegnato alla squadra mobile di Torino. Dal 1996 al 1999 ha diretto la squadra mobile di Agrigento e successivamente il gabinetto regionale di polizia scientifica per la Toscana. È stato anche dirigente del compartimento polizia ferroviaria per le marche L'Umbria e l'Abruzzo. Insomma, un territorio che De Cicco conosce molto bene. Ecco le prime parole da questore di Chieti. Benvenuto a Chieti. Grazie, per me è un piacevole ritorno, visto che ho già lavorato e ho la famiglia che vive a Pescara. Questo non è un dettaglio. Non è un dettaglio perché aiuta a lavorare meglio, aiuta ad essere più presenti anche sul territorio e a conoscere un po' meglio le problematiche insieme ovviamente alla collaborazione di tutti. Lei ha detto una cosa fondamentale in conferenza stampa, voglio prima toccare con mano, no? E poi magari pianificheremo e ci coordineremo un po' tutti un lavoro di squadra. Però che realtà le hanno rappresentato? Beh, i problemi di questa provincia non sono né più né meno corrispondenti a quelli di altre province. Abbiamo il problema della criminalità con i reati contro il patrimonio che sono particolarmente odiosi per le persone, lo spaccio delle sostanze stupefacenti e anche negli ultimi tempi un modo abbastanza scomposto di divertirsi. Quindi dobbiamo essere un po' più vicini anche al disagio giovanile. Quanto sarà importante l'aiuto del cittadino? Ma l'aiuto del cittadino è importante perché il cittadino è la prima sentinella sul territorio. È quello che vede prima di noi i problemi, ci aiuta a intercettarli immediatamente e a intervenire in maniera chirurgica. Quindi senza esporsi naturalmente perché noi dobbiamo fare la parte più significativa. Però il cittadino ha un compito importante in questa squadra. Parole di ringraziamento, direi sentite, non di prammatica, come magari potrebbe succedere in queste circostanze, rivolte al suo predecessore. Non sono parole di circostanza perché conosco molto bene a Nino Gargano, abbiamo lavorato insieme negli anni passati e so che è un ottimo funzionario. So che ha lavorato molto bene, è stato molto vicino ai suoi uomini e soprattutto alla gente e alle altre istituzioni. Troverò una strada in discesa. Grazie.